Ciao a tutti ragazzi mi chiamo Riccardo e benvenuti sul mio canale Allora oggi facciamo una death run Allora facciamo creativa E iniziamo Allora non gioco con le death run da un miliardo ma proprio di tempo Quindi farò quella default E ragazzi non mi insultate perchè non la faccio tanto eh E niente Iniziamo Allora lo sta caricando Creativa Sta caricando 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 e caricando E si può iniziare ogni volta Cioè perchè sta skin non posso neanche saltare porco cane Aiutatemi Ah finalmente Facciamo la default death run Bella E let's go Wow Ok stiamo iniziando Inizia tra 3 2 E vabbè Da lui 3 2 1 E iniziamo questa death run Allora dove sta Aspettate Ah ecco Livello 1 Livello 1 fatto Livello 2 fatto Livello 3 fatto Livello 4 fatto Livello 5 fatto Livello 6 fatto No Livello 7 fatto Livello Nooo Ho sbagliato Vabbè Vabbè ragazzi Da tanto che non la faccio Quindi Scusate Ok Livello 9 Livello 10 Ok Oh Ok Nooo Dai ma come ho fatto a sbagliarlo Vabbè ragazzi Aspettate Ok Salute lo faccio serio Ok 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 Oh no Non mi ha Vi giuro non mi ha saltato con X Vi giuro che non mi ha saltato Vi giuro che non mi ha saltato Si può fare direttamente così Che imbicilla Ok Sì perché se lo stesse chiedendo Sono Riccardo Rinaldi Solo che sto registrando Mannaggia Sto registrando Dalla PS4 Perché una fan Non me l'ha consigliato O un hater Non so Chi Ok Questa Devo prendere poco sprint Ok Questo è il pro Alex Spano lo sapeva fare Questo qua del lag Mi dà fastidio Perché ogni volta che salto là Mi laggia Vedete Ok 18 No Vero C'era questo Ma non Comunque ragazzi Iscrivetevi Lasciate like E Attivate la camallina Allora No No è vero C'è nessun passaggio Ok Ora sarò zitto Non posso giurare Cavolo Mannaggia Ole Ole Oh cacchio Troll 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 Trolloso Molto Trolloso Molto Trolloso Trollo No dai Trolloso Lo sapevo Però Sono andato troppo fuori Troll numero 1 Fatto Troll numero 2 Fatto Troll numero 3 Fatto Troll numero 3 Quello era il Troll numero 3 Quello là sotto Trolloso Vabbè Trolloso Guarda come ci provava un Steam Family. Troll 4 superato. Bellissimo livello fatto. Livello 29 fatto. No! Vero! Stessa cosa. Anche questo mi dà un botto fastidio, ragazzi. Ve lo posso giurare. No! Non riesco mai a saltare così, raga. Però si fa così, guardate. Comunque farò un video al giorno oppure a settimana. Oddio, che sedere che ho avuto. Non si è attivato, raga. Comunque nel muro c'era una cosa che ti faceva sprintare. Madonna. Dove stavo andando? Raga! No! No, porco cane, questa cosa non la sapevo. Ok, raga. Ok? 3, 2, 1. Eole! Uno. No, questa cosa non la sapevo fare. Un botto i pro. Però, io so pro. E' medio. Però, diciamo che lo riesco a fare. Ok. E' bene. Questo è molto più easy del solito. Di nonno Giovanni. Ok. Aiuto! Cosa è successo sotto una reazione a cadeta, raga, madonna? Comunque arriveremo massimo al livello 50. Questo è il mio livello preferito, raga. Non lo riesco a fare però divertente. Perché praticamente si giampa col giampino. E praticamente, se tutto dovrebbe andare bene, dovrete attivare subito il vostro deltaplano. E farei così. Ora, questo è un livello easy. Lo sanno fare anche i nappi. Ole! Anche i nappi lo sanno fare. E faccio bene. Dropper easy. What? Ah, ok. Questo era la cosa. Troll. Dannazione. Comunque arriviamo fino al livello 50. Perché al 52 è un livello impossible per me. Oh! No! Allora, io non capisco mai questa cosa. Che non mi salta. Quanto faccio il doppio salto? E non so perché. Ah! Oh! 24. Livello 40, fatto. Livello 41, fatto. Allora. Allora, allora, raga! No! Ragazzi, mi sa che dopo questo livello finiamo qua. Perché, beh. Ok. Questa cosa la vogliono fare solo... Cioè, non so se solo i pro lo sanno fare oppure i hacker. Ma io ci riesco perché sono... Sto diventando pro. Quindi lo sanno fare anche i pro. Sto aiuto. Sto aiuto. Sto aiuto, ragazzi. Ma si può essere più default di così? Però... Sto proprio, però, più default di così? Proprio... Niente. Perché ho messo il ballo. Ma dai! Ma scusa! Lo sto calcolando! Aiuto! Ragazzi! Vabbè, mi sa che dopo sto livello hacker Lo possiamo concludere l'episodio Aiuto, che tortura, raga Uno Due Tre Madonna, sciolta, madonna Madonna Mannaggia Ounque non so se faccio un rigio Faccio anche una battle royale Perché ho fatto il mio dovere Ah, ma perché sto facendo questo livello Vabbè ragazzi, lasciate un mega mi piace Iscrivetevi Noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao